Buongiorno a tutti, sono Luca Seibene, sono candidato alla Regione Lombardia per la lista di Sinistra Ecologia e Libertà che sostiene il candidato presidente Umberto Ambrosoli. Sono un avvocato, lavoro a Uboldo, ho uno studio legale a Uboldo, paese in cui vivo da quando sono nato e dove ho ricoperto anche dal 2002 al 2007 la carica di assessore alla pubblica istruzione e alla cultura. Ho accettato con entusiasmo la candidatura al Consiglio regionale perché ritengo che le elezioni del 2013 siano un'importante occasione a livello regionale e a livello nazionale per dare veramente una svolta al nostro paese e alla nostra regione. Dopo 17 anni di governo del centrodestra e di Formigoni abbiamo la possibilità di dare veramente una svolta. Sinistra Ecologia e Libertà si propone come una forza nuova, di fatto, fuori da ogni palazzo. È la prima volta che abbiamo la possibilità alle elezioni di appunto eleggere dei rappresentanti. Nonostante l'assenza di Sinistra Ecologia e Libertà dai palazzi del potere, notiamo in tutte le trasmissioni, in tutti gli interventi, come il nostro Presidente Nicchi Vendola sia sempre oggetto di attacco. Evidentemente tutti temono che effettivamente Sinistra Ecologia e Libertà possa dimostrarsi la forza nuova, la forza che può veramente dare una svolta al modo di intendere e di fare la politica. Anche noi sul nostro territorio ci stiamo dando da fare, ci stiamo muovendo per farci conoscere e per accrescere i consensi del nostro movimento. Per quanto riguarda il programma specifico e le cose che mi stanno a cuore e che mi impegno a fare in caso di elezione al Consiglio regionale, visto il mio ambito di attività, anche il mio slogan sarà rappresentato da un motto molto chiaro. I tuoi diritti, le tue ragioni in regione, facendo l'avvocato mi stanno molto a cuore i diritti dei cittadini. Ritengo che una politica che sia attenta ai diritti e che parta da svolgere la funzione istituzionale in maniera etica, corretta, trasparente, che rendi conti ai cittadini quanto si fa, come si fa e con quali anche fonti di denaro eventualmente si svolge la propria attività, sia la cosa fondamentale. In particolar modo mi stanno a cuore le tematiche dell'ambiente e del territorio. Avendo vissuto la vicenda dello svincolo di Saronno Sud da amministratore comunale, uno svincolo e un'opera che è stata di fatto imposta in maniera dispositiva e forte dalla regione Lombardia e dall'assessore Cattaneo, nonostante il tentativo dell'amministrazione di trovare delle soluzioni alternative che potessero effettivamente risolvere il problema della viabilità, la regione ha ritenuto invece utile realizzare quest'opera che nei fatti, stiamo vedendo, non sgrava per nulla il traffico ma sposta esclusivamente il problema dal nodo autostradale della Lazzaroni alla nuova uscita sul Peralba. È invece quindi necessario poter risolvere i problemi e dialogare con il territorio e con i cittadini al fine di trovare le soluzioni migliori. Il mio impegno sarà quello di dialogare sempre con la cittadinanza.